Bene, siamo al secondo video dedicato a TOF Intanto una precisazione Nel video precedente, quello in cui spiegavo perché non mi piace l'acronimo Ho detto che la fiera era turismo e outdoor Invece no, è travel Cioè in realtà hanno usato tutte le parole in inglese Quindi in maniera coerente Anche se per la fiera si tiene a Parma Che è Emilia Romagna, Italia Lingua facciale, italiana E' importante questo perché ringraziamo che ci ha sottolineato Che ci ha evidenziato l'errore che abbiamo fatto Perché è tipico delle persone intelligenti Quando qualcuno commette un errore o qualcun'altro l'evidenza Ringraziare Quindi Carlo, grazie Sappiamo che ci sono quelli che invece se la prendono Come un delitto di desamistà Ma poi non è che il mondo deve essere per forza pieno di persone intelligenti Dobbiamo lasciare spazio anche agli altri Se no non si emerge Oggi parleremo del Che cosa è mancato nella narrazione di TOF Quindi di Travel Outdoor Fest E che cosa invece doveva esserci Allora, per quel che riguarda le mancanze Punto primo Basta osservare Quindi ci sono 23 fiere di primavera Tra gennaio e aprile In tre continenti Che hanno un notevole successo di pubblico Nel 100% di questi casi Le fiere sono locali Ovvero, ergo, traduco Tra le 23 fiere più importanti di successo nel settore camper, caravan, campeggio Non ne esiste una in cui ci sia la caratteristica di essere nazionali Sono tutte regionali, locali, di zone Questo è il primo punto Due, sempre analizzando chi ha successo nel resto del mondo Magari hanno tutti sbagliato i nostri amici intelligentoni Però magari vuoi vedere che hanno azzeccato qualcosa Si scopre che nel 100% dei casi La fiera è nella zona, nell'area In cui viene sviluppato il 70% del traffico turistico di quella nazione Ora, senza nulla togliere Coloro che abitano a Parma mi scuseranno Ma bisogna essere anche un po' obiettivi Io presumo numeri alla mano Che in città tipo Venezia, Roma, Napoli, Milano O in località tipo Lago di Garda Ci siano più turisti che a Parma, ad agosto Così, mi viene questa sensazione Poi magari sbaglio, qualcuno mi porterà dei dati Dirà, no no, guarda che è così Finché nessuno me li porta, così è la sensazione Questo è un altro punto Quindi, vogliamo organizzare una fiera di primavera Che abbia successo una risonanza E che funga da trai, no? Sì, ci si può Si può fare, anzi si deve fare Perché l'Italia è una delle poche nazioni Delle grandi nazioni in questo settore In cui manca Quindi si deve fare Per il bene del mercato, delle camper, del caravan, del campeggio Si deve fare Però questi sono due numeri da cui non si prescinde E adesso andiamo a terzo video In cui spiegheremo esattamente come deve essere fatta Quindi, penne calamaio Prendete appunti perché sul prossimo iniziamo Una volta stabilito quali sono gli errori Iniziamo a costruire Ciao